Il comune del giorno e nello specifico il sottoscritto di concerto con l'ufficio di polizia locale ha voluto adottare tre ordinanze che abbiamo voluto definire, ricomprese in un'operazione per restituire decoro al centro abitato del giorno, queste tre ordinanze vogliono dare una indicazione su quelli che sono i modi di comportamento che non vengono più tollerati all'interno del nostro comune. Quindi chi violerà queste ordinanze che dispongono i modi di comportamento che hanno reso invidibile alcune parti del nostro territorio sarà pesantemente sanzionato. Questa azione sanzionatoria va di pari passo comunque ad un'azione interpreta da questa amministrazione per migliorare la sensazione e comunque il concetto di polizia del centro abitato e si affianca sempre a quella che è una richiesta nei confronti dei miei concittadini di operare e di vivere il territorio comunale con un senso civico più spiccato di quello che è stato fino ad oggi dimostrato. So che molti già lo fanno, chiedo a tutti i miei concittadini di vivere il nostro paese come fosse la loro abitazione.